Salve a tutti i ragazzi, qui è Chargay Parla, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi porto una busta mega super ultra iper mega gigante Che ci è stata mandata da X-Shockwave97 E' un FCBM Da X-Shockwave97 Per Char Con la faccina Quindi mi raccomando il link in descrizione del suo canale Mi aveva già annunciato di questo FCBM Mi ha detto Chargay Parla Siccome non colleziono più Ormai faccio Yu-Gi-Oh Volevo mandarti delle carte che avevo Certo mi ha detto non aspettarti le cose che ti ha mandato Poké Shiny Ma non ti aspettare nemmeno comuni e non comuni Una cosa strana è che mi ha detto che aveva spedito in raccomandata E invece è prioritaria Ma non è questo l'importanza Aspettate un attimo Non è questo l'importante Cioè sinceramente non mi interessa niente Come potete vedere è prioritaria L'importante è che è arrivata La cosa che mi stupisce è che ha spedito ieri Il 17 Ed è arrivato oggi Il 18 Cioè in meno di un giorno è arrivata una posta prioritaria E non è che abita a due passi da casa mia No Abita Cioè siamo gli opposti praticamente Lui abita proprio Cioè lontanissimo E quindi mi sono un po' sbalardito Mi chiedo se è la posta questa Comunque come potete vedere è super bustono Quindi apriamo Ok Ragazzi No oddio cos'è il colla Mamma mia Spero che allontani un po' la luce Se no Ok Mi raccomando link è in descrizione di questo canale Iscrivetevi al suo Veramente Ve lo chiedo per favore Oddio Mi si è Guardate un po' mi si è appiccicato Aia Pensavo di restare con quel coso Per l'eternità Io l'odio lo so Scocci Colla Qualunque cosa che Che mi dia fastidio Perché non lo strappa da tutta Perché Mi si è appiccicato qua sotto Oddio Sono scocciofobico e collofobico Uh Uh attenzione ragazzi Attenzione perché Uh 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 Attenzione Cioè ci manda La carta giambo di Palchia e di alga leggenda Uh uh E condizioni buone per essere una carta giambo Perché Le carte giambo Non so se lo sapete Ma sono tutte Come dire Molto fragili E essendo stata anche in una busta Tanto qua è un po' ammaccato Ma Proprio non si vede Quindi wow 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 Arreda un po' ragazzi Bellissimo Questa si trova nello set Scontro leggendario Ok Andiamo un po' Uh figo Eh facciamo così che Uh 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 Ah c'è è uscito tutto Tranne che il biglietto Oh lol Oh mio santissimo lol Oddio che sono scemo Ho infilato una mamaglia Cioè ho infilato la mano Dentro la busta Mi si appiccia tutta la colla Che schifo Che schifo Eh ok Come sono con Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Perché mi sento di dire Oh mio dio Non lo so Eh Ok Per charm Ciao charm Ora che collezione Collezione Oddio no Perché non Sono confuso Collezione gioca Yu-Gi-Oh Come avevo detto Eh Le carte pokemon Non mi servono più E quindi ho deciso Di farti un piccolo FCBM Mm Questo piccolo Fra Parentesi Mi Mi fa un po' Poco Mm Ora sai anche chi sono E chi ero Psico Blizzard 209 Io con questo Psico Blizzard Io ho fatto Ho fatto anche Uno scambio Bello Molto bello Ora si Io so chi sei Mi piace man Lol Detto questo Ti saluto Ciao Xshockwave97 Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al suo canale Perché è veramente Simpaticissimo Questo utente Lo conosco anche Direttamente Su facebook Quindi mi raccomando Link in descrizione Eh Questa non c'è niente Ok Io non so da dove cominciare Qua ci sono Delle carte In top loader Mm Penso di doverle lasciare Alla fine Pure queste E pure questa Che è messa Oh Cristo Cosa ho visto Oh Cristo Oh Cristo Fer Quindi dire Di aprire prima Queste che sono senza cosa Poi questa Non so Si c'è una carta dentro Che è Max protection Cioè dovrebbero farle Bustine protettive Così veramente Guardate Qua c'è una bustina Di battaglia di tronfale E una di stir Lol Oh lol Quindi facciamo Una scaletta Tipo così Anzi no Si Anzi no Oddio Mi sto confondendo Le top loader Sono molto molto più fighe Quindi faccio così Così Tanto però Andiamo Ok ho ordinato La scaletta di carte Che dobbiamo Tanto le bustine Mi servivano un mondo Sei un mito Qua c'abbiamo Non mi dire Che è il campo da gioco Lo scotch No È tornato Oddio Forbici Dove siete Oddio Perché non ci sono mai Quando servono Forbici Ok io adesso Spero di non strappare No Non lo fare No Non ci provare Scotch Non ci provare Bravo E non ci provare Nemmeno da questa parte No 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 Scotch Non fare brutti scherzi No No Ecco lo sapevo Vabbè dai Condizioni speciale Sto soffrendo Sto soffrendo Ah povero 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 Campo da gioco Quanto sto soffrendo Guardate E vabbè Un po' di cicatridina E torna tutto a posto Sto soffrendo Wow Ok ho capito Wow 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 Io non so come farvelo vedere Ma è un campo da gioco Con Nidoking Fisio Salvaguardia reale Mazzo tematico E di un set hs Che però non so C'è anche Electivire Quindi Non so che set hs Magari Andrò a vedere più tardi E vi farò sapere Qua Qua è gelo rigoglioso Già riconosco questo mazzo E quello con Mamoswine Sì sì Ah qui non ci ha messo lo scorcio Grazie Mi ha salvato Mufo Erano veramente Veramente molto più belli Secondo me I U Oddio I campi da gioco Di Hs Perché come vedete C'erano gli sfondi Così Invece quello di nero bianco Mi sembra un po' Non so E vabbè ragazzi Comunque c'è Mamoswine Mamoswine E Magmortar Campi da gioco Non si possono mai Fare vedere per intero Quindi grazie mille Per questi due campi Da gioco Userò questi Semmai dovrò Usarli No perché io gioco Ma Cioè non si Vabbè potrei usarli Qui ci manda Delle rare Aerodactyl Raro Weavile Raro Glacione Raro Ariadus Raro Sì Che è di Ergo SoulSilver Uh bello Questo Reshiram Uh Questo è Eh Non vorrei sbagliare Ma direi Platino Arceus Arceus Wow Questo è bello Dragonair Che Non so di che serie È È un Ispion Quindi sono tutte rare Sì Anche Dragonair Bene Ottimo Poi qua ci manda Delle carte In sleeve No 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 Cominciamo con questo Fantastico Rayquaza Ma cosa ho visto E mi sto per andare ad uccidere Ma non male che aveva scritto Leggetelo anche voi È piccolo Per questo ci ha messo l'XD Oddio Rayquaza Olo Reverse Di Ex Fantasmi Di Olo Condizioni che sembrano perfette Ma penso proprio di sì Ma sinceramente Perfettissime Sì sì Non so perché ma Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio In italiano Oh mio Dio È soltanto un poco Non so se vedete Manca un poco di oro qua Ma chi se ne frega Oddio Io sapete che Amo Charmander Ovviamente E non può Poi dietro è perfetta pure Non può mancare Un oh mio Dio Così nella mia collezione No 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 Di Ex Guardiani dei Cristalli No 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 Ok Ok Bloody Can All Reverse Eh no però dai Non puoi fare così Vedi Vedi così Non me lo puoi fare Non puoi fare così Questo set Che non so minimamente Che cosa è Poi è anche in italiano Oh Oh quanto amo questa carta Quanto l'amo questa Eh Eh vabbè dai Ah questo forse È un set di diamante e perla Sono sicuro Sì sì Diamante e perla è qualcosa Io amo le Le ollo di diamante e perla Platino Questi set così Oh Questa mi mancava Scoli peddolo del mazzo Eh Frosdust Che bello Questo set Non so nemmeno cos'è Ma è bellissimo Frosdust Questa messa un po' male Ma chi se ne frega Eh non potrebbe mancare Ovviamente L'ottavo crobat Mi sembra giusto Tranquillo Avrei una famiglia Tranquillo Lo metto da parte Ecco quella bambina Ha urlato per me Questo qui è un parente di PokéShine Sì 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 Cioè era una delle sette prime che mi mancava Adesso sono sceso a meno sei Alla Kazam Livello X In italiano Swampert Text di ex bardiani dei cristalli Regist e l'ex No No Calmiamoci Calmiamoci Calmiamo Uno degli arceus Che mi mancava Non è che c'è qualcosa dentro Ok Oddio non ci credo No Questa l'ho trovata Olo reverse nei parchetti di Joe Ho detto mi piacerebbe tantissimo Averla Olo Ed eccola qui Poi qui cos'è che abbiamo ancora Mutuolo Di Alba Suprema Questa sono sicuro E' Armaldo E' Armaldo E' Armaldo Ci manda in questa fighissima sleeve qua dietro No ma la cosa più brutta è che mi ha preso Cioè Lui mi ha detto Questo piccolo Io vi vorrei vedere pure i messaggi che mi ha scritto su YouTube Di ma no Non aspettarti cos'è la Pokeshine ma sai sono Vabbè apriamo questa Vabbè apriamo questa dai Sì Mettiamo questa Eh Ah c'è ancora un'altra bustina dentro No cioè In Wow E' Sforza segrete Ficata Uh grazie mille Ci manda Un raggio ipnotossico Che fa sempre comodo Lo metto accanto a Crobat E due codici di Uraganoplasma Bene Grazie Messe Questa bustina mi serviva E' Sforza segrete Lol Ok E poi ci manda Queste bustine qua in top Queste carte in top loader Sono tre Non so minimamente cosa ci sia ma Io Non so se Dovrei preoccuparmi oppure no Perché Cioè Se Se mi mette Dov'è Swampert X Alla Kazam level X In normali bustine di Black e white Io vorrei capire cosa c'è in queste top loader Non oso immaginare Adesso c'è il giglio top X Me lo sento Eh no 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 Ho letto il nome Ho letto il nome Eh no 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 Liscio Gasato Ferrarelle Io direi che preferisco Miu X Oddio 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 Una delle X Che mi piace di più Ragazzi Eccola qui Una delle X Che mi piace di più Dopo magari Shamin Possiamo dirlo Sì Shamin mi piace un casino Oddio 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 Siete parenti Sì 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 Ok Io mi preoccupo No non voglio vedere cosa c'è Oh io Oh Liscia anche questa Tanto la mia Attenzione No 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 Non è possibile Non è possibile Oddio è ruvida Oddio ragazzi è ruvida Oddio Arrivederci Io me ne vado Ciao Ciao Oddio Dove vado No 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 Keep calm Charm Keep calm 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 Meno male che l'ho lasciata per ultimo Altrimenti morivo prima Ora io ragazzi vi lascio È stato un piacere stare con voi Fare questi video Uccidersi Ma quest'utente mi ha portato al suicidio Io ho sentito che era ruvida Mi aspettavo Vabbè una full art Ma non con questa bellezza Condizioni che sono perfette Io non ho parole No la cosa che Questo piccolo FCBM Non ti aspettare cose alla Pokeshine Ma di certo non sono però Comuni e non comuni Però dai È un piccolo FCBM Io rimango scioccato Davanti a queste cose Ragazzi così mi fate diventare Debole di cuore No cioè No cioè adesso se non vi iscrivete Al suo canale io vi uccido Vengo a prendere a casa Vi uccido Cioè ci manda tre X Che mi mancavano tutte e tre Tra cui il mio che è una delle mie preferite Quella carta gigante Swampert X Alla Kazam Livello X Di Platino Lascia ai rivali Electrode Prime Etico Prime No 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 ragazzi Iscrivete per forza Ragazzi io vi obbligo Iscrivetevi Mi raccomando Poi che cosa ci manda C'è Olo Olo Sopra Olo Olo Stupende Adesso Arceus Buio No mai sono rimasto di colpo Quando ho visto La Shiny Questo Mew Questo Cersard Che non sapete quanto lo amo Mewtwo Armaldo Kindra Là ci sono pure delle rare Che non bisogna scordarselo Raiquaza Sto Blasican Crobat Quello non bisogna mai scordarselo Oh mio Dio 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 C'è guardato Un po' che è male Un po' di carte rarissime Poi le rare sono là Oh mio Dio Oh mio Dio 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 No io non riesco ancora A connettere Che perchè quando io ho visto C'è queste quattro carte Alla Kazam, Swampert X Poi c'era anche Regi Silex Che me le mette in In sleeve Non ho usato in Cioè ho pensato di tutto in quelle In quelle toploader Poi quando alla fine ho sentito il ruvido Mi sono detto Oddio questo è pazzo Ragazzi Archeops Aspettate un po' Oddio metti a fuoco dai 110 su 108 Come potete vedere Sto leggermente tremando Ma leggermente però Questo è best FCBM No 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 Senza dubbio Poi ci ha mandato quella la gigante Due codici Cioè io sono senza parole ragazzi Io non so come ringraziare questo fantastico utente Cioè Vi scrivetevi Vi scongiuro Non so cosa Perché proprio mi ha Mi ha accolto alla sprovvista Oddio cosa ho detto Mi ha accolto alla sprovvista Chi da si può dire Cioè Cioè Wow 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 Senza parole ragazzi Mi raccomando Vi scongiuro Iscrivetevi al suo canale Link in descrizione Apparirà sicuramente la Come dire La Oddio La finestrella Sì Ecco Che vi riporterà al suo canale Ma penso che sarà anche tra i consigliati Senza ombra di dubbio Wow Bellissimo questo archivist Ragazzi io Direi che questo è tutto Perché altrimenti Cioè passo ore e ore A farvi vedere queste carte Quindi Questo è tutto Mi raccomando Un bel like E non siate invidiosi Che poi mettete pollice in giù Invece di mettere pollice in giù Andate nel canale di X Shockwave 97 E vi andate a iscrivere al suo canale Mi raccomando Quindi ragazzi Questo è tutto Intanto passa un motorazzo Questo è tutto Da Questo è tutto De charm Alla prossima ragazzi Qui mi vogliono morti Mi vogliono morto Ho capito Sì perché voi mi volete morto Mandandomi queste cose E Alla prossima De charm Ciao a tutti ragazzi